Allora ragazzi, Pix racconta. Allora ragazzi, purtroppo non c'è nulla da fare, i prescritti hanno vinto, io l'ho detto da agosto che questi romperanno i coglioni fino alla fine, anche perché ragazzi c'è uno in panchina come Conte, che Conte dà l'anima. In Europa non vale un cazzo, ma in Italia dà l'anima, non c'è niente da fare, ma questa è anche colpa nostra che il campionato lo teniamo aperto, perché? Perché facciamo cagare al cazzo, facciamo cagare al cazzo. Abbiamo perso contro una squadra che ha fatto tre partite in sei giorni, ragazzi. Io non me lo so ancora spiegare la sconfitta di ieri, non me lo so ancora spiegare. La Lazio, ragazzi, come sempre, ha aiutato agli arbitri, non è stato dato un rigore all'ultimo minuto al Parma, clamoroso. Poi si lamentano quando succedono contro di noi le cose, ma però quando vanno negli altri campi nessuno dice niente, non è successo niente, tutti zitti e andiamo avanti. Tutti così. Con gli altri passa tutto in secondo piano e con noi devono rompere i coglioni per un mese. Ma va bene così. Tanto noi siamo da soli contro tutti. Non c'è problema. Tanto, com'è che dice il detto, quando le cose si fanno difficili i duri iniziano a giocare, una cosa del genere? Iniziamo a giocare duramente adesso. C'è stata anche una dichiarazione di Sarri che ha detto ho bisogno di aiuto, ho bisogno che qualcuno mi aiuti. Io, se fossi in te, avessi la dignità di firmare le carte e dare le dimissioni, perché tu, come allenatore, non vali un cazzo. Laiu, Agnelli si deve svegliare, Agnelli deve prendere una presa di posizione, fare piazza pulita. Snedbel, Paratici e questo allenatore, purtroppo, anche se Sarri non c'entra nulla, perché è da solo, però Agnelli deve prendere. Se devi fare il presidente, esci dalle fogne, come ho detto nel video precedente, esci dalle fogne, prendi 1, 2, 3, fai i primi dimissioni e ne mandi fuori dai coglioni. Perché, ragazzi, così, purtroppo, non si può andare avanti. Da vincere qualcosa, ragazzi, passeremo ad una stagione fallimentare e se giochiamo così, come abbiamo giocato col Verona, col Lione, ragazzi, statene certi che andiamo fuori dai coglioni subito dalla Champions League. Ragazzi, questa è la realtà dei fatti. Questi interi, l'Inter rompere i coglioni fino alla fine, perché è giusto che rompere i coglioni fino alla fine. Domenica, domenica, c'è Lazio-Inter, speriamo in un pareggino, almeno così, se dovessero vincere casa col Brescia, un minimo di respiro e una boccata d'ossigeno possiamo averla. Però sicuramente qualcuno che avranno questi qua vinceranno anche a Roma o alla Lazio, sono sicuro. Vabbè, niente, ragazzi, dai, ci vediamo domani, penso che sarò al processo di Marco, finito di lavorare, come sempre, fino alla fine, forse Juventus. Non vi chiedo di iscrivervi al canale perché tanto non vi iscrivete. Niente, io vi saluto e vi auguro una buona serata. Grazie. 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 Grazie.